Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica, a cura di Don Piero Rattinne. Buongiorno. Avere la fede è un po' come avere le ali, ma non è poi detto che le sappiamo adoperare. Anche le galline da cortile le hanno, ma non le usano, tutt'al più svolazzano o raso terra. Anche se qualcuno potrebbe accusarmi di essere piuttosto sadico, tuttavia lo devo dire, a volte è necessario uno scossone, qualcosa che metta in crisi le nostre sicurezze per indurci ad usare le ali, cioè, fuori metafora, per mettere in movimento la fede che abbiamo nel cuore. E' ciò che accade a Pietro, l'Apostolo. Quella notte, sul mare in burrasca, né lui né i suoi compagni si aspettavano di vedere il Maestro venire verso di loro camminando tranquillo sulle onde. Eppure avrebbero dovuto sapere che lui, dal monte sul quale era salito a pregare, teneva d'occhio quella barca agitata dalla tempesta e non li avrebbe comunque mai abbandonati. Forse che a noi, noi che siamo i dodici di oggi, non proviamo mai la sensazione che il Signore ci abbia abbandonati? Signore, esclama Pietro, se sei tu comandami di venire verso di te sulle acque. Ma scusa Pietro, cos'è questo? Fiducia in Gesù o una piuttosto sfida lanciata a Gesù? E' più facile sfidare Dio che non fidarsi di Dio. Noi oscilliamo sempre tra un fidarci totalmente di Gesù Cristo e la paura di farlo davvero e senza condizioni. Vieni, gli rispose Gesù. A Pietro, lì per lì, non sembra vero di camminare sulla cresta dell'onda, ma poi la paura ebbe sopravvento e cominciò ad affondare. Signore, salvami! Gesù lo prese e gli disse l'uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ma cos'è allora la fede? Come può essere tanto audace la fede da consentirci di non avere paura? Non siamo eroi né superuomini né superdonne. Di fronte alle difficoltà, alle prove della vita, siamo tutti ugualmente deboli, tutt'altro che abili ad affrontarle e superarle con dignità. Sì, ma a noi, discepoli di Gesù, è data l'opportunità di legarci in modo vitale e indissolubile a Lui. E se questo legame che da parte sua tiene ed è forte, è forte e tiene anche da parte nostra, allora si può attraversare la bufera, le tempeste e tutto il resto, perché è Lui stesso che fa la traversata con noi. No, non basta avere le ali per volare davvero. Legarsi a Cristo con vincolo indissolubile e vitale, ecco ciò è capace di adoperare le ali. Buona Domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattinne.